Siamo stati completamente dimenticati. I lavoratori di Scarlino Energia, la società che gestisce l'impianto di produzione di energia dai rifiuti nella piana di Scarlino, hanno deciso di rompere gli indugi. Sono diversi anni che non ci facciamo sentire, dicono. Siamo rimasti in pochi, anche perché l'interesse e la solidarietà per la nostra situazione manifestata da chi spesso va sui giornali non ha risolto i problemi legati ai nostri posti di lavoro. Dei circa 120 dipendenti, 60 dirette e 60 dell'indotto, dicono ancora i lavoratori, siamo rimasti meno di 10 in Scarlino Energia. I nostri ex colleghi si sono dovuti arrangiare da soli, rinunciando spesso alle professionalità acquisite e accettando talvolta situazioni poco dignitose, perché le belle parole dei vari sindaci e i tavoli in regione non hanno portato un solo posto di lavoro. Oggi, davanti ai recenti interventi della politica e dei politicanti, sentiamo il bisogno di dire la nostra. L'impianto che produceva energia dai rifiuti della provincia è fermo dal gennaio 2015. Da oltre sei anni, che cosa è stato fatto da allora per i posti di lavoro persi? Che cosa è stato fatto per il problema dei rifiuti? E dove sono le attività alternative che creano occupazione? Se ne parla solo quando riappare lo spettro del rilascio di una nuova autorizzazione all'impianto di Scarlino, proponendo le solite soluzioni campate in aria senza progetti che non tengono conto delle realtà.